Negli ultimi due anni molto è cambiato per la cassa rurale Altogarda. Prima la fusione con la rurale di Mori Brentonico Valle di Gresta, poi quella con la rurale Valle dei Laghi. Ieri sera in occasione della prima assemblea allargata della nuova rurale al Palafire della Baltera si sono presentati 1.300 soci degli 11.500 che compongono l'attuale base sociale. Hanno votato un bilancio che racconta le nuove dimensioni dell'Istituto. 2,1 miliardi la raccolta complessiva, più di 1,1 miliardi gli impieghi netti di bilancio. Supera i 2,2 miliardi il totale dell'attivo. 161 milioni il patrimonio, 240 i dipendenti, 31 le filiali dislocate su 18 comuni e 3 province, 65 mila i clienti. Il presidente Enzo Zampiccoli, che è stato riconfermato per la terza volta alla presidenza dell'Istituto, rassicura rispetto alla crescita dimensionale della Cassa Rurale, sostenendo che l'ampliamento non ne snatura, al contrario rafforza il ruolo di banca di riferimento del territorio, semplicemente di un territorio più ampio, allargatosi prima all'Altopiano di Brentonico, a Mori e alla Val di Gresta e successivamente alla Valle dei Laghi. All'interno dell'Assemblea, un apposito momento è stato dedicato ai 168 studenti, soci o figli di soci, che hanno ricevuto il premio allo studio, intitolato al compianto Marco Modena, per complessivi 107 mila euro.